Da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, si susseguono una serie di indiscrezioni e gossip sui loro rispettivi. Il nome di Fedez è stato affiancato a quello di alcune ragazze, l'ultima delle quali sarebbe tale e sve. Chiara Ferragni, invece, si vociferava che l'influencer stesse frequentando Andrea se ne era già parlato a inizio luglio e ora, a distanza di un mese, circa. Nome già annunciato da D'Agospi e ora confermato anche da Kim Ferragni. Infatti, avrebbe iniziato un'affettuosa amicizia con Silvio. Chi è? Il CEO di Golden Goose, marchio di scarpe e di lupare, infatti, che l'amore sia scoppiato a forte dei ma qui si sarebbero visti per la prima volta, in occasione di un evento. Non solo. Secondo il settimanale diretto da Signorini, l'uomo, che è sposato, avrebbe conosciuto Chiara Ferragni mentre si trovava in compagnia della moglie. Un dettaglio che, se confermato, sarebbe. Ma al momento non ci sono alcune conferme, né smentite, da parte dei diretti interessati. Nell'influencer, nell'imprenditore ed ex modello hanno detto nulla.